Grazie a tutti Un appuntamento molto gradito questo da voi telespettatori che ci fa molto piacere Allora andiamo a vedere il santo, rimanendo in tema, il santo di oggi è San Francesco da Paola Il sole è sorto alle 6.46, tramontano alle 19.37 Per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire, nel senso che fa freddo perché a quest'ora sono 0 gradi Per lo meno qui a Fano, infatti vedete ci sono anche le gelate al primo mattino soprattutto nelle zone interne e nei fondovalle Per domani ancora più o meno giornata fotocopia, così come sabato, anche se le temperature saranno in aumento e non ci saranno le gelate Tempo stabile anche per la prossima settimana E adesso andiamo a vedere i giornali Attenzione perché questa mattina nella rassegna stampa parleremo soprattutto dei buoni spesa Quelli che i comuni si apprestano a derogare ai cittadini che ne hanno maggiormente bisogno Quindi attenzione, poi ogni comune c'è qualche differenza tra comune e comune Poca cosa ma comunque parleremo anche di questo Allora andiamo a vedere i titoli e partiamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro Il virus frena ora l'ultimo sforzo, meno contagi ma ospedali ancora pieni purtroppo Conte dice si resta chiusi fino a Pasquetta, poi inizierà la fase 2 A Iesi arriva la Marina Militare, i cinesi ancora non si vedono Ceriscioli dice no alle passeggiate, ieri intanto altri 26 morti A centro pagina il racconto, l'intervista alla CT della Nazionale Mancini, sapete lui è di Iesi, ho visto morire i miei amici Marcello si riferisce ad un uomo di 58 anni che era un volontario della Croce Rossa di Iesi Che da bambino giocava insieme a lui, medici e infermieri, siete i miei idoli Pesaro, voucher per la spesa, subito 800 richieste, molte però sono senza requisiti Sempre Pesaro, operatori sanitari, no a Marche Nord, la fuga in Romagna Neonato dimesso ad Ancona, il baby guerriero, vince la sua battaglia contro il virus In basso la Blue Volley, piange anche il Presidente, addio a Giancarlo Leonardi Giorni fa deceduta sua figlia, il papà è morto invece ieri a 74 anni all'ospedale di Iesi Questa invece è l'apertura del resto del Carlino, ucciso dal virus 15 giorni dopo la figlia Addio a Giancarlo Leonardi, il Presidente della Blue Volley raggiunge la sua Federica scomparsa per lo stesso male E poi Giacomo, l'epidemia non gli lascia scampo a soli 44 anni e frenata di contagi, ora siamo sul plateau E dunque a centro pagina invece la fotonotizia del checkpoint che si trova in strada dei cacciatori A Pesaro, i guariti in marcia, arrivi in auto e fai il tampone, è partito il servizio a Villa Fastigi Esordio difficile, autonomi, il click dei IMSS tra rabbia e proteste Il sito spesso in tilt per ricevere i 600 euro Fuori dalla terapia intensiva il neonato positivo al Covid, questa è la buona notizia E poi ricoverato con la febbre in ansia per Don Franco Tamburini E adesso la pagina interna del Corriere Adriatico Meno contagi ma gli ospedali sono pieni, tutti a casa fino a Pasquetta Il virus rallenta, rallenta ancora ma servono altri sacrifici Il Premier blocco prorogato fino al 13 aprile Ceriscioli protesta per le passeggiate genitori figli La scelta la giudica come imprudente Mentre il Premier Conte dice non le ho autorizzate I pazienti ricoverati ieri sono saliti a 1.152 nelle Marche 168 sono in rianimazione I contagiati verso quota 4.000 Ma la crescita, come abbiamo detto, frena Muore di coronavirus 15 giorni dopo la figlia Addio a Giancarlo Leonardi, presidente della società sportiva Blue Volley Pesaro Raggiunge la sua Federica che è scomparsa per lo stesso male General manager della società Alfonso Petroselli Dice per me era un fratello maggiore E lo ricorda anche Giuseppe Uguccioni Direttore generale della Megabat La squadra di volley che la scorsa estate ha acquisito la Serie B1 Grazie a lui Giancarlo era una persona squisita Dolce e gentile Sotto invece il neonato che adesso migliora È uscito dalla terapia intensiva del Salesi Il piccolo di tre settimane È il secondo caso in Italia di storie a lieto fine Dopo quello di Bergamo La mamma è negativa Il bebè sarebbe stato infettato all'ospedale di Urbino Oppure all'ospedale di Ancona Intanto a proposito di ospedali Crescono a Iesi e a Civitanova Saranno 90 e non 100 come ipotizzato in un primo momento I posti letto di terapia intensiva all'interno del centro fieristico di Civitanova Dove la regione con la collaborazione di Guido Bertolaso Vuole realizzare un ospedale sul modello di quello fatto alla Fiera di Milano E per il quale si sta facendo una colletta tra privati Per raggiungere la cifra di 12 milioni di euro Giacomo Olivieri, 44 anni e un cuore grande È morto all'ospedale di Pesaro Dopo aver combattuto per 14 giorni in rianimazione Contro una brutta polmonite Lo strazio degli amici Per quasi 30 anni Olivieri ha lavorato e coltivato le sue passioni Era una persona solare piena di amici Tra Gabice, Gradara, Cattolica Fino ad arrivare a Bologna E ieri a soli 44 anni Se ne è andato Olli Così lo conoscevano tutti Si è spento a Pesaro dopo 14 giorni in rianimazione Contro la polmonite da Covid-19 Cameriere professionista Con tantissima esperienza alle spalle Tanto da appunto dividersi tra Cattolica e Bologna Ciao caro Paolo, antiatleta Che mi insegnasti il basket E questo è l'altro ricordo Sempre sul giornale di questa mattina Mentre Fano piange un'altra vittima Massimiliano Copparoni Aveva 55 anni Fedele collaboratore di Giovanni Ranocchi Come lui ucciso dal virus Consulente organizzativo Project manager della Ranocchi Software Lo ha fatto pochi giorni dopo il suo datore di lavoro Di cui è stato un fedele collaboratore Fin dalla fondazione dell'omonima azienda Uniti per 30 anni nel combattere le stesse battaglie Fino anche all'ultima Contro questo maledetto virus Che li ha strappati Entrambi all'affetto dei loro cari Aveva compiuto 55 anni Proprio il 6 marzo scorso Ed è una festa che già era passata in secondo piano Perché febbricitante La città in ansia per Don Franco Tamburini Invece il presidente del CEIS Ricoverato all'ospedale con la febbre Migliorano invece Don Valerio I sacerdoti e ospiti della Casa del Clero Don Franco è uno dei sacerdoti più conosciuti della città Ha 84 anni Fu al fianco del Vescovo Michetti E la sua figura è legata al CEIS Ovvero alle opere che Don Gaudiano Ha istituito per le persone più deboli Bisognose di assistenza Poi sotto invece è un tempo Da cui poter apprendere molto La lettera di una mamma I nostri figli impareranno a confrontarsi con la vita Quella vera A gioire del calore delle persone Si comincia e si parla anche di questi aspetti Ma io credo che poi di tutto questo In questo momento siamo un po' tutti paralizzati dalla paura E quindi siamo ancora tutti con i nervi tesissimi Poi quando piano piano arriveremo alla fase 2 Poi alla fase 3 che dovrebbe essere cosiddetta della normalità Io penso che di normalità se ne parlerà fra tantissimo Perché ci sarà poi, come dire, questi nervi tesi Scalerà la tensione e di conseguenza saremo in tanti a crollare Proprio per tutta la tensione accumulata in queste settimane Quindi bisognerà essere forse ancora più forti di quello che dobbiamo fare adesso Quindi davvero ci vorrà una grande forza e un grande spirito di comunità Dobbiamo davvero essere il più possibile coesi anche dopo E quindi questo ci insegna che tutto l'egoismo portato avanti fino adesso Tutto io, tutto io dovrà scomparire e dovremmo farci forza l'un l'altro Anche dopo questa emergenza Che sarà un'emergenza che continuerà ma sarà di un altro tipo e non solo economica Chiusa parentesi, Pasqua è tempo di diretta in tv Qui si parla di noi, si parla di noi Ma soprattutto si parla della Pasqua, di tutte le celebrazioni pasquali Che insieme al Vescovo Trasarti e ai fedeli Trasmetteremo sul canale 17 Siamo chiamati, ha detto il Vescovo della Diocesi A una grande prova di sopportazione di fede Il programma di celebrazione è stato predisposto in tutti i dettagli L'appuntamento è sul canale 17 Scrive il resto del carino questa mattina Con tutti i dettagli, con tutti gli orari Che troverete qui sul giornale Vivo come Vescovo, scrive il giornale come Vescovo E posso dirlo anche per tutti i nostri preti Vivo con dolore di non poter celebrare insieme a tutto il popolo Non è la stessa cosa farlo in tv con poche persone Lo capisco bene E per primo ne sento tutto il disagio e la straordinarietà È il popolo che testimonia la fede in Gesù Cristo Il crocifisso risorto celebrato nella liturgia Per il Vescovo questa Quaresima e questa Settimana Santa Che ci priva della messa festiva e feriale Deve farci riscoprire altri modi di vivere la preghiera Il digiuno e la carità Poi sotto la diocesi, la diocesi sempre di Fano Fossumbroni Caglipergola Che ha donato 8 tablet, 8 piccoli computer per pazienti di Marche Nord Un ulteriore aiuto per creare i collegamenti in video Tra pazienti e i familiari che si trovano a casa Credito, rischiamo di perdere tutti i soldi Carloni della Lega dice se domani la Commissione regionale non approva la proposta di legge Le Marche non beneficiano del Cura Italia Sta combattendo contro il coronavirus ed è già operativo nella sua quarantena Per aiutare una categoria in ginocchio Che è quella che gli appartiene anche dei ristoratori Mirko Carloni, consigliere regionale, è in convalescenza Ma ha illustrato agli operatori di Ristor Italia Il comitato dei ristoratori fanesi che si è formato per l'emergenza Le richieste urgenti da inoltrare in regione E poi ancora dal resto del cardino Patto fra banche e associazioni per favorire la ripresa economica Incontro per le strategie L'assessore Lucarelli traccia la mappa Giocattoli introvabili La rivolta delle mamme Inaccessibili nei supermercati Interi settori dedicati ai bambini A causa delle nuove disposizioni Come intratteniamo i figli tutto il giorno C'è stata la battaglia per avere i pennarelli Per comprare qualcosa per far colorare Per far giocare i bambini a casa Purtroppo, sapete, ci sono dei reparti Anche come insomma nei grandi centri commerciali Dei reparti che sono chiusi Sono chiusi per non penalizzare quelli che invece hanno negozi Solo di cancellerie Che sono costretti a rimanere appunto Con la sarracinesca abbassata Quindi per evitare disparità In alcuni reparti non si possono fare gli acquisti Vedete qui ci sono i nastri Eccoli qua Bianchi e rossi E quindi sono inaccessibili Quindi si va lì ma non si possono comprare Off limits anche le cancellerie L'intimo ai casalinghi Ma guai a toccare le sigarette Qualcuno dice E anche qui sono i paradossi dell'Italia L'assurdità di certe regole assurde Ti danno la possibilità di morire di cancro e polmoni Con le sigarette Ma non ti vietano di comprare i pennarelli Per far scrivere e disegnare i bambini a casa Vabbè Mezz'ora di fila per la spesa Prosegue la corsa al carrello Si punta ad acquistare tutto il necessario In un'unica soluzione Per evitare di uscire di nuovo La spesa non è più la spesa passeggiata Come abbiamo fatto fino adesso La spesa è una spesa Che davvero diventa necessità Quindi si va di fretta Si va già con una lista ben preparata Mentalmente uno deve avere Lo schema del supermercato Dove sa le cose che deve andare a prendere Di corsa, quasi di corsa Si entra dentro, si prende Si mette nel carrello Si va alla cassa E si esce Se possibile Dandosi anche un tempo Proprio per rimanere Per rimanere svelti E non perdersi in passeggiate Tra le corsie Si punta Dicevo ad acquistare tutto In una certa In una certa velocità I rifornimenti Su questo Lo ribadiamo Non ci sono problemi Perché tutti i generi Di prima necessità Saranno sempre presenti Nei magazzini Dunque non c'è alcun motivo Di preoccupazione Sul tema Dell'approvvigionamento Della merce È un appello Che viene fatto anche Nei circuiti interni Dei supermercati In alcuni posti Io li ho sentiti Ma comunque Mi pare che tutto sommato Questo rischio Non ci sia Mascherine invece Sul discorso delle mascherine Qualcosina si comincia a trovare Ma quelle che si trovano Costano dai 2 euro E 30 centesimi Fino ai 7 euro Una farmacia è stata denunciata Un'altra farmacia È stata denunciata Insomma Sono tutte mascherine Che arrivano dalla Cina A 2 euro e 30 Poi Per essere poi rivendute A 7 euro È stata Questa la principale Delle contestazioni Della guardia di finanza Della farmacia Madonna di Loreto A Pesaro L'altra invece Legata all'assenza Della certificazione sanitaria E quindi è una circostanza Che in realtà È consentita Dai recenti decreti Ma in casi come questo L'alternativa È un'autocertificazione Che deve fare il farmacista Perché non ha il timbro Non ha quella certificazione Che dice che questa Si può essere utilizzata Tutte formalità Tutte robe Bazecole Che in tempi di pace Vanno bene Ma quando si è in guerra Insomma Uno prende e porta a casa Forno crematorio A Fano Questa è la pagina Del resto del Carlino Emergenza e dolore Parla l'addetto Del forno crematorio Che è un 44enne fanese Abbiamo ripreso Dopo lo stop Ma qui la situazione È difficile Ci sono salme in attesa Da 15 giorni La tecnologia È all'avanguardia Siamo in piena emergenza Abbiamo ripreso le cremazioni Dopo un periodo di pausa Ma ci sono ancora Feretri che attendono Da 15 giorni Nel deposito Al secondo piano Compresi quelli Che sono ancora Nelle celle frigorifero L'impianto è entrato in funzione Nel 2017 È tecnologicamente all'avanguardia Ed è nato Dalla collaborazione Tra i comuni di Fano E quelli di Pesaro Aspes Uniti in sodalizio Con Adria Poi c'è la spiegazione Di come si svolge La cremazione Ma sinceramente Ve la risparmio E poi Insomma C'è un'intervista Che è stata fatta Appunto a questo Operatore Che racconta Un po' Come la sua giornata Intanto Aumentano Nonostante Insomma Il periodo sia quello che sia Aumentano i rifiuti E gli abbandoni Dei rifiuti I cittadini hanno Iniziato a rallentare O abbandonare La raccolta differenziata Molti lasciano la spazzatura Nei pressi delle isole ecologiche Ma anche in piazzuole stradali E persino fossati I cestini dei parchi Sono sempre pieni E quindi non si capisce perché E anche Soprattutto per il fatto che Se i parchi sono chiusi E la gente deve restare a casa C'è qualcosa che non torna Come mai I cestini Dei parchi Appunto all'aperto Sono pieni Buone spesa Ecco qua Domani Prima consegna Qui ci riferiamo Al comune di Fano Il contributo Come abbiamo detto È di una tantum Di 150 euro Per le persone sole E fino a 400 euro In base al numero dei familiari Allora Il comune di Fano Ha ricevuto 323 mila euro Per l'emergenza Alimentare a Fano Dopo aver redatto Una graduatoria Dei beneficiari Il comune si affiderà Al volontariato sociale Per consegnare A domicilio Le buste Contonenti Buoni spesa O voucher Che avranno Avranno dei tagli Da 10 Da 20 Oppure da 50 euro Nel caso Il nucleo Consista in una sola persona Questa persona riceverà 150 euro Verranno erogati 150 euro Saranno aggiunti Invece 50 euro Per ogni componente Di famiglie Più numerose Quindi Se siete In 3 150 Più 50 Più 50 Fino a un tetto Massimo Di 400 euro I voucher Potranno essere spesi Soltanto negli esercizi Fanesi Convenzionati L'elenco Sarà pubblicato Sul sito del comune Chi non ha internet Per quanto riguarda Fano Può telefonare A questi numeri di telefono Che vedete qua 887 481 887 482 Tutti quelli Che sono seguiti Come abbiamo detto Ma questa è una regola Quella vale per tutti Per tutti i comuni E quelli che vengono Già seguiti Dai servizi sociali Non devono fare niente Perché vengono Contattati direttamente Ok Allora adesso Andiamo invece A vedere la pagina 29 del Corriere Adriatico Il confronto Di videochiamate La diocesi Regala 8 tablet Significativo Atto del Vescovo Per il Santa Croce Siamo con voi Sanitari Questa è la fotografia Come vedete Ci sono I medici Benedetta E Scusate Bedetta E Frausini E poi davanti Invece Don Marco E Don Francesco E sotto Invece Ecco qua L'appello Un po' come quello Sulla falsa riga Di Mondolfo A Fossombrone Mandate Medici senza frontiere La richiesta Del presidente Hauser Per il ruolo strategico Dell'ospedale Appoggio Bipartisan Della politica Andiamo ad Urbino Per vedere le regole Del voucher Questi voucher alimentari Pronti invece da oggi Le regole di chi può E come può Ritirarli Allora Il comune di Urbino Ha ricevuto 77 mila E 28 euro Vabbè 77 mila euro Da impiegare Per misure urgenti Di solidarietà alimentare A questo scopo Verranno regati Buoni voucher Stampati ciascuno Per un valore Di 25 O 50 euro Vedete Qui il taglio è diverso Rispetto a Fano Ma vabbè Urbino 25-50 Da utilizzare Per soddisfare Bisogni alimentari Possono accedervi Le persone I nuclei I familiari Residenti Ovviamente Nel comune di Urbino Presentando una domanda Su un modulo scaricabile Sul sito del comune Comune.urbino.pu.it Vabbè Questo lo trovate Chiaramente Su internet I nuclei familiari Già in carico Al servizi sociali Anche qui Vedete Verranno contattati Direttamente Dalle assistenti sociali Per agevolare La richiesta Di accesso al voucher Il contributo Sarà di 150 euro Per un componente Con incremento Di 50 euro Per ogni Ulteriore componente Del nucleo familiare Sino ad un massimo Di 300 euro Vedete Questa è la differenza Tra Fano A Urbino 300 Il massimo A Fano invece di più 400 I buoni dovranno Essere utilizzati Entro 30 giorni Dal ritiro E potranno essere spesi In tutti gli esercizi Commerciali Che sono ovviamente Adibiti alla vendita Dei prodotti alimentari Presenti nel territorio Comunale di Urbino E che non abbiano comunicato L'indisponibilità Ad aderire All'iniziativa Quindi che aderiscono All'iniziativa Nel caso in cui L'utente Non ne abbia la possibilità Potrà recarsi Anche allo sportello All'ufficio Tributi In via Gagarin E dalle 10 Quindi tra poco Alle 13.30 Per ritirare I moduli Per fare questa domanda Perché allo sportello Potrete consegnarla Ma anche ritirare i moduli Per preparare questa domanda E poi potranno ritirare I buoni Coloro che A seguito di domande In modalità telematica Abbiano ricevuto L'autorizzazione Alla concessione Chi non può Recarsi allo sportello Dovrà segnalare E motivare La propria condizione Per attivare il centro Operativo comunale Detto questo Andiamo sulla pagina Della Valle del Cesano Per i buoni Nel comune di Mondolfo I contributi erogati Per il comune di Mondolfo Sono di 94.900 euro Il valore dei buoni spesa Per varia seconda Del numero delle persone Anche qui si parte Da 150 Ma il massimo aumenta Si fa come fanno Qui si arriva A un massimo di 400 euro La misura Con presentazione Di un'apposita domanda Riguarda le famiglie Monoreddito E non titolari Di reddito Allora Anche qui I buoni spesa Mondolfo Saranno erogati Prioritariamente Ai nuclei familiari Con minori E disabili A prescindere Dalla data di arrivo Della domanda Quindi loro avranno La precedenza Mentre verrà erogato In base Alla data Sino all'esaurimento Dei fondi Disponibili A tutti gli altri Che faranno richiesta Senza la presentazione Di un'istanza La misura riguarda Invece Quelli che sono in carico I servizi sociali Quindi tutti questi Non devono presentare Nessuna domanda Perché sono già Seguiti dai servizi sociali Del comune di Mondolfo E di conseguenza Loro riceveranno La telefonata Per tutto il resto Insomma C'è anche qui Ci sono dei numeri Di telefono Che si possono contattare Che vedete qua 9392 922 E poi altri numeri Se comprate il giornale Insomma Li avrete Oppure andate su internet Poi Sotto invece Da terre roveresche C'è La notizia Che la storica Fiera di San Giorgio Del 25 di aprile È stata Cancellata Credo Dice il sindaco Antonio Sebastianelli Lo ha detto In una diretta Facebook Credo che una cosa simile Sia accaduta Solo nel periodo Della seconda guerra mondiale Vedremo Però se sarà possibile Rinviarla Dati consolanti Invece Sulla questione Dell'emergenza sanitaria Nel territorio comunale Di terre roveresche A partire Dalla diminuzione Dei contagiati I cinque positivi Curati a casa Aspettano Di essere Sottoposti Di nuovo Al tampone Per avere la conferma Della loro guarigione Da Urbino Anche qui si parla Questa volta Dal resto del Carlino Dei buoni spesa Ecco come funzionano Il resto del Carlino Anche qui parla Di Quali sono Di qual è la prassi Insomma Dell'ufficio Che è disponibile Dalle 10 alle 13 E 30 In via Gagani Poi da lunedì Invece i tamponi Nel centro del sasso Allestito In tempi record E solo per coloro Che sono guariti dal virus Per andarci Si deve attendere la chiamata Anche qui Non bisogna andare spontaneamente In ospedale In soli 10 giorni È stato allestito Un nuovo laboratorio Di biologia molecolare E questa era l'ultima notizia Della nostra segna stampa Per cui ci fermiamo qua Vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Una buona giornata E vi ricordo Che questa sera Alle 20 e 30 C'è il nostro telegiornale Questo è il numero di telefono Per le vostre segnalazioni Grazie per essere stati con noi E arrivederci Per le vostre segnali Per le vostre segnali